appassionate e appassionati di trail running benvenuti in questo episodio di trail run mania dove parleremo di un tema caro a tutti i trail runner ma con chi ne parliamo prima di dire l'argomento presentiamo il nostro ospite che è alfredo fasolo ciao alfredo benvenuto grazie di essere qui con noi ciao luigi grazie per avermi invitato alfredo è un guru diciamo guru delle scarpe da running e da trail running e quindi il tema di questa di questo episodio è la scelta corretta della scarpa da trail running e adesso ci racconti perché ce n'hai di cose da dirci allora io vengo da te che sei un grande esperto poi parleremo anche di che tipo di servizio offri da sempre ti occupi di calzature da da running a trail running vengo da te ti dico quale scarpa da trail running permetta passione va bene ecco adesso raccontacelo quale che cosa c'era l'evoluzione puoi partire anche dalla preistoria non dal giurassico facciamo solo preistoria e vai allora parto dal presupposto che forse il mondo della calzatura del trail running si è sviluppato negli ultimi diciamo 20 anni perché prima soltanto le aziende che facevano la calzatura da da strada facevano qualche modello vedi asics con la gel trabuco vedi sao con i vedi mizuno con con i suoi modelli una volta si correva principalmente con la scarpa da strada basti pensare che io ho portato una scarpa che la phantom classic scarpa completamente liscia come suole quindi qui andiamo a sfatare il mito che non soltanto la scarpa da trail deve avere un tassello bello pronunciato ma anche la scarpa liscia in base a come corro può essere utilizzata sono delle slick da formula 1 ma sì però la differenza la fanno i piedi tant'è vero che in questa scarpa Marco Olmo ci ha vinto qualche monte bianco quindi scarpa leggera scarpa liscia eppure Marco Olmo ci ha vinto il monte bianco quindi questa è la preistoria certo qui siamo sulla preistoria e poi si apre un mondo diciamo che oggi ci vediamo di fronte a scarpe oversize come può essere Oka con scarpe con suola decisamente alta nonostante abbiano un differenziale ossia differenza tra tallone e avampiede di altezza o drop molto basso di 4 mm quindi il piede lavora all'incirca sullo stesso piano le scarpe oversize possono essere comunque un po' più strette un po' precise sugli appoggi oppure possono essere un po' più larghe come potete vedere questa suola che è molto voluminosa per dare più superficie di contatto perché l'atleta che corre bene può utilizzare quella un pochettino più con la pianta più stretta un po' più minimale per essere favorito da appoggi più veloci l'atleta che comunque tendenzialmente il trail lo cammina o corre a ritmi molto blandi tenendo conto che anche dopo determinato tempo interviene la stanchezza quindi si arretra di baricentro, si cade più sul tallone quindi abbiamo bisogno di una scarpa che ci dia sicuramente più stabilità ci troviamo poi di fronte a scarpe di diverso genere quindi io proporrei la scarpa a una persona che viene a comprarla o che la deve scegliere, meglio ancora, non tanto come la scarpa migliore quanto la scarpa come un attrezzo a te a cosa serve, cosa ci devi fare ecco a quel punto se io so cosa ci devi fare ti propongo l'attrezzo giusto ma non solo, ti propongo come poi tu devi utilizzarlo perché se io ho una scarpa con un tallone piuttosto stretto allora vuol dire che sono un atleta dotato di una buona biomeccanica perché sicuramente lavorerò di più sul mesopiede, sul avampiede in salita va bene, ma in discesa per avere appoggi più rapidi e più veloci quindi scarpa con intersuola basso, scarpa molto veloce perché gli appoggi sono molto veloci e precisi ecco scusa Alfredo, che cos'ha l'intersuola? perché io sono basico, mi devi raccontare allora parliamo di... io sono rimasto, non dico agli scarponi della Valle Intrasca quando si correva con lo zaino però sono rimasto delle scarpe un po' rigide, un po' dure da trail running io partirei dal fatto di presentare magari la scarpa nelle sue componenti così tutti riusciamo a capire come è formata una scarpa che possa essere una scarpa da running normale piuttosto da strada o da pista piuttosto che la scarpa da trail running allora abbiamo una parte principale che è quella della tomaia allora, la tomaia è importantissima perché? perché il mio piede viene stabilizzato tantissimo dal tallone e soprattutto anche nella parte centrale contando che oggi nelle scarpe anche da trail running sono state tolte completamente le cuciture abbiamo qualche termosaldatura per proteggere la scarpa per proteggere bene i piedi, le dita dei piedi, le unghie in caso di impatto con sassi ma la scarpa è priva di cuciture per non creare attriti, abrasioni varie e soprattutto anche per alleggerirla quindi fondamentale la tomaia con una buona stabilizzazione del tallone e una buona stabilizzazione della parte mediale del piede in questo caso abbiamo la ribelle run calibra ht della scarpa che utilizza anche il sistema boa un altro tipo di allacciatura allora, l'allacciatura tradizionale prevede una stringa poi abbiamo scarpe come Salomon che presentano la loro allacciatura che avete presente tutti tiro, chiudo ci sono dei dentini che mi bloccano la stringa in caso di scorrimento il boa system invece è una stringa legata appunto a questa parte che poi viene chiusa e la scarpa recupera la stringa stringendo la tomaia allora, i sistemi di allacciatura rapida sono diventati più validi rispetto a una volta se prima si tendenzialmente si allentavano durante la corsa oggi danno più garanzie di tenuta quindi tomaia parte importantissima per la stabilizzazione del piede soprattutto in sterrato dove l'appoggio è questo e non è quello lineare della corsa normale su strada poi abbiamo l'intersuola l'intersuola è questa parte della scarpa allora, nella parte dell'intersuola ovviamente viene racchiusa anche l'ammortizzazione che si dice più evoluta ovviamente le scarpe fatte come oca con schiume avranno un unico intersuola fatto con una schiuma abbastanza morbido altre scarpe hanno componenti diverse come può essere in questo caso la ribelle che ha un tallone con una densità di EVA basso per renderlo più morbido in caso io appoggiassi ho bisogno di ammortizzazione un'intersuola con alta densità per darmi un po' più di reattività in fase di spinta e questo è l'intersuola dopodiché parliamo del battistrada a questo punto il battistrada deve avere o comunque quasi tutti i tipi di battistrada hanno un tassello bidirezionale per darmi tenuta in qualsiasi caso salita, discesa o comunque se il piede ha dei movimenti particolari per cui ha bisogno di tenuta quindi il tassello viene fatto in più direzioni in tutta la scarpa il tassello può anche non essere altissimo perché più superficie di appoggio meglio è io ricordo sempre che la scarpa d'arrampicata che tiene sui sassi può rampicare completamente liscia per cui voglio dire non è necessario che il tassello sia altissimo ovvio che se io so che devo fare corsa su neve su terreni fancosi molto morbidi allora a quel punto il mio tassello che tendenzialmente potrebbe essere un tassello di altezza 4 mm come in questa scarpa potrebbe diventare un tassello un po' più runciato un po' più alto ma perché ho bisogno di determinate esigenze metto i ramponcini in quel caso anche ecco però per questo di tassello vedo qua ad esempio non voglio fare il tuo non mi voglio sostituire a te però c'è proprio una differenza tra una tassellatura e l'altra su quale base uno che si avvicina parliamo anche dei neofiti o magari chi ha già esperienza può fare una valutazione su qual è il tipo di tassellatura più adatta a lui nel senso è necessario avere più di un modello di scarpa più di un tipo di scarpa in funzione del terreno che sai che andrai a trovare o esiste una scarpa tra i running universale come scolpitura della suola ma tendenzialmente come dicevo prima il tassello è universale poi ogni azienda che propone magari la sua suola la scarpa propone comunque presa che è il suo tipo di suola di battistrada oppure Mitsuno ha una convenzione e utilizza gomma Michelin o altrimenti altre aziende come abbiamo visto con Oka o con New Balance abbiamo il Vibra Mega Grip che è una delle suole che tiene di più però la tassellatura tendenzialmente viene fatta standard nel senso che queste calzature che vi trovate davanti potete utilizzarle su qualsiasi tipo di terreno ripeto c'è solo la scarpa con tassello più pronunciato che può essere utilizzata su terreni un po' più molli, fangosi piuttosto che come dicevo prima se uno vuole affrontare un percorso anche con neve ha bisogno di un tassello più pronunciato a meno che non metta il ramponcino come dicevi tu Luigi discorso delle mescole ovviamente ormai tutte le aziende anche che non usano Vibra o Vibra Mega Grip o altre mescole gomma Michelin o Continental e via dicendo danno abbastanza garanzie di tenuta poi una cosa da non confondere è il fatto che tanto dipende da come corri perché della stessa scarpa alcune persone possono dire tiene tantissimo tiene troppo non tiene niente ricordo che se io corro e ho paura in discesa cosa farò? arreterò di baricentro e se uno ha presente cosa fa? uno sciatore che si ha paura arreta di baricentro non controlla più lo sci e quindi ne perde appunto il discorso di riuscire a gestire la velocità ecco che anche la scarpa se io arreto di baricentro se trovo abbastanza seduto cosa succede? ho più contatto più tempo di contatto col terreno e quindi tendenzialmente scivolerò di più se l'appoggio invece è minimale ovviamente appoggio e vado appoggio e vado indipendentemente che il sasso sia umido o sia asciutto comunque riesco a gestire quella che è la tenuta della scarpa quindi anche lo stile di corsa o di camminata ha una sua importanza ecco ma tu che vedi migliaia di appassionati ai quali consigli la scarpa è più adatta come fai a regolarti se non lo vedi correre cioè quali sono adesso non ti voglio rubare il mestiere ma quali sono i segreti che tu utilizzi sulla base della tua esperienza per consigliare la scarpa giusta cioè quando se io e te andiamo a correre insieme tu mi vedi correre e mi dici guarda secondo me tu sei un lentissimo in discesa prenditi questa qua ma se tu non lo vedi uno viene da te non l'hai visto tu come lo consigli? a parte che come deformazione professionale o mentale tendenzialmente anche alle gare io guardo sempre le persone come corrono come si muovono ma quando una persona viene a trovarmi già da solo solo da come cammina riesco a capire qual è intanto il suo appoggio del piede ma soprattutto appunto la sua la sua tendenza se stare un po' più seduto se stare un pochettino più dinamico quindi lavoro un po' di più anche quando cammina le persone le vedi sicuramente dopodiché il vantaggio di poter far provare la scarpa anche su 10-20 metri di corsa e per questo vengono organizzati dei test che sono molto preziosi perché se le persone sfruttano questi test hanno la possibilità di provare le calzature e capire esattamente qual è l'appoggio quale qual è la struttura della scarpa e se può andare bene per loro non è detto che poi uno compri quella scarpa ma almeno riconosce la differenza e dice quella che ho preso va bene quella che sto provando non va bene perché? perché la tomaia è troppo larga rispetto alla mia forma del piede quindi non mi tiene il piede non mi sento sicuro in fase di appoggio perché la la suola non tiene bene il battistrada non tiene bene perché comunque non mi sento sicuro con questa scarpa quindi sfruttare questi test che ogni tanto le aziende permettono di fare è molto importante dopodiché chi mi viene a trovare ha la possibilità di provarle almeno su una ventina di metri riesce a fare dei passi di corsa io vedo già quella che è la postura e sicuramente mi so regolare Alfredo quanto dura una scarpa da trail e quando ci accorgiamo che la scarpa va cambiata? beh oggi il discorso di avere delle scarpe è fatte in cui è stato esasperato il discorso di tomaie più leggere mescole più leggere nell'intersuola quindi schiume la tomaia esaurisce molto prima quella che è la sua memoria di ammortizzazione o si deforma più facilmente oppure la tomaia purtroppo basta un ramo un sasso non messo bene che me la me la strappa piuttosto che comunque tende ad allentarsi con il tempo e non darmi più la stessa tenuta ovviamente più la scarpa è morbida più se cammino e sto in giro tanto tendenzialmente andrò a farla implodere a togliere la memoria di ammortizzazione quindi non è detto che la scarpa più morbida sia la migliore se io faccio un trail lungo e cammino tanto ovviamente non sentire i sassi sotto fa la differenza però esistono anche scarpe di aziende che fanno una densità intersuola leggermente più più alta e a quel punto la scarpa tende a implodere meno e dura di più sicuramente tanto dipende anche dall'appoggio e dal tipo di corsa o camminata quanto sono propositivo quanto sono seduto quando cammino e a quel punto la durata dipende proprio da come cazzo la scarpa quindi non riusciamo a stabilire un tempo ma riusciamo a stabilire un segnale che noi riceviamo dalla scarpa quando la scarpa è scarica quando è da cambiare sicuramente sentirò di più allora per chi non è abituato a usare bene i piedi perché quello utilizza magari anche scarpe più reattive quindi tipo la Sense le Lab della New Balance scarpe molto più reattive a quel punto quella scarpa è così è più precisa non sarà mai morbidissima e quindi la differenza la sento la vedo nel tempo perché si consuma mentre per l'atleta meno evoluto che tendenzialmente è più abituato ad avere un appoggio più importante ad avere un carico maggiore un tempo di contatto maggiore a quel punto si accorge perché ad un certo punto inizia a sentire tutti i sassi su cui appoggia i piedi e la scarpa ormai è scarica non è quantificabile bene perché ovviamente in base a come poi corri o cammini se per una persona supponiamo la scarpa dura 400 km che pensando sul trail sembrano tanti in realtà sono pochissimi perché se io faccio un trail lungo vuol dire che se partecipo a un trail da 100 km avrò fatto anche gli allenamenti la mia scarpa tendenzialmente per quanto consigliato da un'azienda dura veramente poco però dipende sempre appunto da da come viene utilizzata da come ci cammino da come ci corro e la durata può essere arrivare fino ai 600 km fino ai 700 sicuramente va valutato tanto anche il discorso della tomaia perché io posso avere una scarpa che comunque di intersuola va ancora bene ma se la tomaia non mi contiene più il piede mi mette a rischio soprattutto magari sui traversi dove rischio delle distorsioni quindi possiamo dire massima attenzione alla perfetta efficienza della scarpa perché è uno strumento fondamentale anche per il runner ma per i trail runner certo sul trail runner ancora di più per il discorso appunto della stabilità che può dare la tomaia che è importantissima perché supponiamo che io corro in discesa ho un appoggio minimale appoggio il piede su un sasso il sasso si muove ma io non ho nessun problema l'atleta col carico più importante cosa fa appoggia su un sasso in maniera importante il sasso si muove e prende la distorsione quindi è importante che la tomaia lo aiuti a contenere il piede a dare stabilità vogliamo fare un breve cenno anche visto che parliamo di calzatura anche alla calza perché è qualcosa che separa il piede dalla scarpa giusto senza entrare nel merito dell'abbigliamento però mi sembra talmente legata alla scarpa alla calza ci vuoi dire qualcosa anche sulla calza la calza è decisamente una componente molto importante dell'abbigliamento di un runner o di un trail runner sicuramente allora diciamo che la calza che non va banalizzato perché a me in realtà diciamo ma si è una calza cosa vuoi che sia tante volte mi trovo di fronte a persone che hanno scarpe integre però hanno fiacche hanno unghie nere hanno e questo non dipende magari dalla scarpa ma tanto quanto dalla calza allora ovviamente io so che nel trail avrò salita discesa quindi il piede si muove molto di più rispetto a quello che è il movimento sulla strada che è un pochettino più lineare e quindi in discesa il piede tende a scivolare piuttosto che in salita si sposta o siccome gli appoggi non sono lineari ma sono destra sinistra a seconda del percorso ovviamente dovrò far sì che il piede resti il più compatto possibile il più fermo possibile allora a quel punto nelle calze da trail running ovviamente mettono o una componente di doppia densità su tutta la pianta del piede nella parte sotto oppure mettono soltanto nei punti di maggior compressione per dare e ammortizzazione e tenuta quindi sotto i metatarsi e nel tallone nella parte del tallone mettono delle doppie densità quindi una calza un pochettino più spessa per tenere il piede un pochettino più fermo non farlo scivolare appunto per evitare il discorso di abrasioni quindi vesciche fastidiose piuttosto che anche il discorso dell'unghia nera perché il piede continua a scivolarmi avanti e indietro qui ovviamente interviene il discorso del numero giusto della scarpa di aver scelto il numero giusto perché tante volte sento persone che mi dicono mi hanno detto di prendere un numero e mezzo in più perché il piede si gonfia o perché vado in discesa sì ma se la scarpa è troppo grande il piede scivolerà di più e quindi l'effetto è controproducente perché vado a toccare di più la punta e quindi l'unghia nera mi viene comunque quindi tanto fa la forma della scarpa che deve essere quella giusta per ogni persona abbiamo una forma del piede diversa tutti e uno deve scegliere la scarpa per la sua forma del piede perché le scarpe potenzialmente vanno bene tutte ma vi faccio un esempio Luigi viene da me prende una scarpa gli faccio provare il numero che prende di solito Luigi in questo caso porta il sette e mezzo americano che è il quaranta e mezzo allora il sette e mezzo americano quaranta e mezzo lo prova di un'azienda mette la scarpa e sente che la scarpa è piccola tocca in punta però va mezzo numero in più e la scarpa è troppo grande mezzo numero in più sono soltanto 5 mm ma nel suo caso è la forma del tipo mezzo in meno piccolo mezzo in più grande vuol dire che quella scarpa non va bene per la sua forma del piede quindi non la calza bene ed è una scarpa da non scegliere a quel punto ci saranno altre scarpe da provare che andranno bene per la sua forma del piede quindi la calza come caratteristica vengono fatte con micropoliammide materiali che restano asciuttissimi addirittura tengono il piede asciutto perché l'umidità che si forna il piede è quasi il 100% ovvero proprio il popore acqua ma soprattutto anche perché nel trail cosa succede che a volte ci troviamo a dover affrontare l'attraversamento di un fiumiciato di un rigagnolo di un torrentino e a volte ci bagniamo il piede facciamo un guado facciamo un guado un guado è ancora meglio Luigi se ci bagniamo il piede io devo avere la possibilità di avere una calza che comunque si asciuga in pochissimo tempo altrimenti mi crea dei problemi appunto di vesciche di fiacche ecco faccio un passo indietro normalmente nel trail a meno che io non faccia un trail invernale in mezzo a neve scelgo una scarpa che non ha membrana in gore perché? perché se mi entra l'acqua il gore mi fa effetto sacchetto e il mio piede resterà bagnato per tutta la durata del trail che può essere di x ore e quindi può essere tanto può essere poco quindi non ce ne voglia la gore sicuramente il gore ha il suo utilizzo e quindi dipende dove vado a correre però dove e quando però tendenzialmente io sceglierò prediligerò la scelta di una scarpa senza membrana perché il piede correndo leggermente fa questo lavoro sale e scende si dice che fa effetto pompa non è mai capitato di vedere quando bagnate le scarpe la schiuma che esce lateralmente quello è l'effetto pompa praticamente con il tempo correndo l'effetto pompa fa uscire l'acqua dalla scarpa e il piede andando avanti nel tempo si asciuga l'effetto schiuma che fanno i cavalli che fanno il galoppo diciamo che lì è un problema oppure quando sudano a parte questa banalità che ho detto una cosa velocissima perché poi devo fare altre domande il tempo sta stringendo è sempre a proposito di calze quei calzettoni alti contenitivi non dico da bene varie cose mi viene da ridere però allora la calza ti do 12 secondi la calza può essere a compressione tenete conto che una volta a compressione si puntava tanto sul discorso favorisce l'assorbimento dell'acido lattico quindi mi aiuta a eliminare l'acido lattico mentre corro in realtà la pompa sanguigna che abbiamo nel tempo che fa rifluire il sangue verso il centro stai già sforando servono o non servono servono o non servono diciamo che riducono la vibrazione in fase di impatto mi tolgono anche l'umidità che c'è nell'aria che viene assorbita fa lavorare il muscolo freddo quindi mi rende più soggetto a infortuni come contratture muscolari e quindi è più un utilizzo di stabilizzazione servono molto anche nel dopogara perché il muscolo è un po' più debole un po' più stanco questo me lo sostiene quindi mi aiuta ad avere sicuramente il beneficio di avere un muscolo più compatto quindi nel riassorbire la stanchezza per i diversamente giovani anche vene varie cose parlo per me potrebbe aiutare il tempo stringe ancora di più però prima hai detto una cosa e volevo riallacciarmi a questo seppur in modo sintetico tu hai detto chi mi viene a trovare io gli spiego gli racconto lo vedo come ecco tu io ti ho chiamato ti ho presentato come Alfredo Fasolo ma sei universalmente conosciuto come Olo e come Sportolo che non è l'ottavo nano di Biancaneve questa è una cosa che ti dico sempre però mi diverte lo ridico e che cosa è Sportolo cioè che cosa è Sportolo dove ti possono contattare chi vuole maggiori informazioni raccontaci un po' di chi sei dal punto di vista dell'attività che svolgi certo io sono un consulente sportivo sono istruttore di atletica leggera quindi mi occupo anche della preparazione atletica di diversi atleti ho fatto dei corsi ovviamente di riabilitazione spalla, caviglia, ginocchio corsi di massoterapia ne sto facendo uno di due anni di massofisioterapia perché collaborando con molti medici che mi mandano persone che hanno problemi di infortuni così devo capire esattamente cosa mi dicono se ho la sindrome della bandelletta eliotibiale sicuramente non darò una scarpa morbida perché altrimenti peggioro quello che l'appoggio creo instabilità e quindi la sindrome della bandelletta eliotibiale può andare a peggiorare quindi per capire meglio cosa mi chiedono le persone devo sapere quali sono i loro problemi a volte mi capita di avere persone che arrivano con diverse scarpe nuove in realtà non è il problema la scarpa quanto i loro problemi di allenamento così allora consiglio magari di fare esercizi di stabilizzazione con tavolette proprio eccettive piuttosto che l'utilizzo di elastici per rinforzare tibiale e peroneo che danno stabilità alla caviglia perché le scarpe vanno bene io faccio il consulente e quindi per qualsiasi bisogno qualsiasi persona abbia bisogno di me può contattarmi sui miei social tramite la pagina facebook quindi ricordiamolo sportolo quindi ricordiamo mammolo, gongolo, pisolo e sportolo sportolo è dove olo è nanocorridore quindi viste i problemi che tutti hanno a reperire una scarpa tra la scarpa giusta io aiuto in questo questo è il mio compito di poter aiutare le persone nelle difficoltà a scegliere la scarpa giusta e soprattutto a insegnare in quanto attrezzo come si utilizza perché come ho detto prima le scarpe vanno tutte bene però tu chi sei come corri e dove corri ecco allora andiamo a scegliere la scarpa giusta e io ti insegno anche come utilizzarla quindi non un venditore di scarpe passami il termine ma un consulente che consiglia e suggerisce la scarpa più adatta giusto certo in quella di Verbagna allora ricordatevi allora il nome dell'ottavo nano così non si può sbagliare ti trovano su facebook instagram instagram tiktok non ancora tiktok non ancora ci stiamo pensando ci stiamo lavorando Verbagna si a Verbagna però tenete conto che poi dopo le collaborazioni si estendono per cui anche chi viene da fuori può avere un contatto con me quindi ci possiamo trovare vedere l'appoggio del piede e posso consigliare la scarpa o addirittura aiutare visto che collaboro con diversi punti vendita trovarmi in un negozio dove oltre a consigliarla darò direttamente la scarpa perfetto quindi vendi anche la scarpa diciamo che la scarpa la vendo però adesso dobbiamo organizzarci è la fase finale la vendita la fase la fase principale è quella di dare la consulenza per aiutare le persone bene allora possiamo chiudere dicendo che è fondamentale la scelta della scarpa e anche della calza per chi fa trail running come ci ha detto Alfredo in questa interessantissima chiacchierata naturalmente grazie di essere stato qua con noi a Trail Run Mania lo spazio che VCO Azzurra TV dedica a tutti gli appassionati e maniaci del trail running e qua da noi ce ne sono tanti oltre a dei bellissimi percorsi grazie Alfredo spero che ritornerai a trovarci magari chiacchiereremo di altre di altre componenti dell'attrezzatura del trail runner e un saluto a tutti e seguiteci sia sulla televisione sul digitale terrestre che sui canali YouTube e i social di VCO Azzurra TV grazie Alfredo ciao a tutti grazie Luigi e ciao ciao